Chi è fuori dalle istituzioni e fa opposizione extra istituzionale, questo va additato alla gente, perché i loro signori stanno preparando un vero e proprio colpo di Stato. Rifate la vostra battaglia politica, la vostra battaglia valoriale se ne siete capaci. Abbandonate il destino suo schifoso, questa elite di merda! E lo dico alla sinistra sindacale, lo dico alla sinistra politica, lo dico alla sinistra culturale, a quella per bene, a quella per male vadano pure a morire ammazzate.